Abbiamo ritenuto di fare un momento dedicato ai nostri operatori, alle imprese che operano nel mercato, una festa dove mangeremo prodotti legati alla frutta e alla verdura, dolci e salati, ci sarà anche della musica e tutti i portatori di interesse, chi compra, chi vende e anche molti operatori che vengono dall'Europa a vedere questa nuova struttura, è una nuova generazione di mercati, l'abbiamo chiamata 3.0, molto moderna, lo spazio rispetto al precedente è ridotto di parecchio perché siamo passati da 80-50 mila metri quadrati ma l'efficienza e la sostenibilità è molto aumentata e questo riduce i costi anche degli operatori e quindi i margini che sono già purtroppo bassi per la crisi generale aumentano, il che dai primi dati che abbiamo, da questi due mesi di lavoro, la tendenza è molto chiara.